Oggi nelle ultime ore purtroppo è stata data la notizia che Matt Mindenhol ci ha lasciati ci ha lasciati all'età di 61 anni, non si sanno ancora le possibili cause del cesso non si sa niente a proposito, è solo stata data la notizia che purtroppo ci ha lasciati oggi Matt Mindenhol Matt Mindenhol per chi non lo conoscesse è considerato come il miglior bodybuilder amateur di sempre quindi che non ha mai conquistato la pro card, infatti Matt nella sua carriera non è mai riuscito a vincere la pro card ed è appunto considerato come il bodybuilder amateur migliore di sempre purtroppo ripeto non si sa nulla riguardo al suo decesso, non si sa nessun possibile caso non si sa se aveva malattie o problematiche varie e fatto stacca, purtroppo oggi ci ha lasciati Matt Mindenhol era uno dei migliori bodybuilder amateur di sempre un'atletta che meritava certamente di più nella sua carriera negli anni 80, si parlo e gareggiava negli anni 80 comunque Matt Mindenhol ha avuto uno dei migliori uffici di sempre ma che purtroppo non è mai riuscito a conquistare la pro card infatti per una serie di circostanze molto sfortunate non è mai riuscito in un'occasione aveva avuto un incidente in macchina e quindi è dovuto stare fermo ai box per un periodo alcune volte ero in gara in una condizione un po' acquosa per il jet lag accumulato con i vari viaggi delle gare e in molte gare è arrivato secondo, una su tutte una gara con Lee Haney infatti quando Lee Haney era ancora amateur era un rivale di Matt Mindenhol si può vedere qui in questa foto un Lee Haney giovane questa è una gara del 1982-81 quando Lee Haney era ancora un amateur e sempre Lee Haney ha sempre sostenuto che Matt Mindenhol abbia avuto il miglior fisico di sempre quindi Lee Haney 8 volte il Mr. Olympia ha sempre affermato che Matt Mindenhol ha avuto il miglior fisico di sempre ma che purtroppo non ha mai conquistato la pro card questa è una brutta notizia la sua scomparsa perché a me è guadibile che se mi è piaciuto aveva delle masse assurde, una genetica veramente incredibile che si è vista sin dalla sua giovanità infatti lui ha iniziato a gareggiare a 17 anni e otteneva subito grossi risultati ma che purtroppo non è mai riuscito a vincere la pro card ultimamente però in questo mese di agosto ho notato che ci sono stati molti anche troppi decessi nel mondo del bodybuilding e quindi qualcosa sta accadendo sono passati a miglior vita atleti anche dagli anni 80 appunto come Matt o anni 90 come la settimana scorsa in cui ha deceduto Phil Hernon recentemente anche sono decedute alcune atlete femminili e anche due settimane fa ha deceduto John Middons quindi qualcosa purtroppo sta accadendo bisognerà fare qualcosa perché non è possibile che ci siano state così tante morti in un giro di poco tempo di atleti giovani anche che gareggiavano in quest'era non parlo di Matt ma ci sono stati molti atleti e atlete che sono deceduti che gareggiavano in quest'era quindi qualcosa sta accadendo bisogna fare eventualmente qualcosa comunque purtroppo oggi ci ha lasciato Matt non si sa ancora niente ripeto sulle possibili cause del decesso appena si saprà qualcosa lo comunicherò magari nella sezione community resta in pace Matt ci mancherai molto